Buongiorno a tutti, questa presentazione riguarda le attività svolte dalla provincia di Carbonia e Glesias con delle collaborazioni che dopo vedremo. Voce? Ok. Dunque stiamo dicendo che questa presentazione riguarda le attività svolte dalla provincia di Carbonia e Glesias in collaborazione con l'ARPA Sardegna e l'assalto regionale dell'industria. Riguarda, è molto pratico l'approccio che c'è stato perché invece di, insomma, non siamo partiti dal problema di studiare il fenomeno ma cercare di porre dei rimedi ai fenomeni che ci sono stati nella nuova provincia di Carbonia e Glesias. Allora, diciamo questo è il brogliaccio della presentazione. La prima parte riguarda le problematiche di sproformamento e salvaguardia del patrimonio vero e provinciale che è il primo approccio, poi vediamo che si è esteso, insomma, l'interesse per questi studi. Il gruppo di lavoro, metodologie di studio e ricerca delle conoscenze pregresse, le indagini e i rilievi in situ, la casistica e i riscontri sul campo, quindi si incolla sproformamenti di genesi in natura, questa è in rosso, e qua abbiamo tutti i problemi di sproformamento legati soprattutto in questo caso a attività minerari, quindi si incolla di tipo non naturale. Cominciamo prima, questo è un articolo giornale, il 28 giugno 2005, un mese e mezzo dopo che la nuova provincia è andata a elezioni, e subito il problema principale, la strada provinciale 83 in località Quaresi, anche questa è la zona più studiata per quanto riguarda i problemi di sproformamento. Grande articolo giornale, immaginate il problema di una nuova amministrazione che di fatto ha soltanto la parte politica e non ha ancora attipo nessuno che si è voluto appare subito a questo grosso problema, con una strada, diciamo un'arteria principale costiera, di fatto bloccata. Questo è il tratto più pericoloso, insomma più problematico della strada 83, vedete questo è uno dei fenomeni sinkhole, ovviamente anche questo, questo è una valle naturale dove ci sono state grandissime attività estrative, quindi anche questi sono ovviamente da annoverare tra i sinkhole non naturali. Questo è il vecchio tracciato della strada provinciale, e poi vedremo che nel 2009, dopo tre anni, alla fine, siccome sono succeduti vari problemi, si è dovuto ovviare questo tracciato. Questa è la vista della valle in direzione sud-nord, tutti i vari fenomeni, questa è la strada provinciale, il tracciato sempre originario, e i vari fenomeni con le date, le date, queste qui 2003-2005-98, sono date diciamo certe, queste altre invece sono dalle date recuperate con l'utilizzo della foto aeree, per cui al momento che nella foto aeree si è trovata, si sono riuscite perlomeno a evidenziare queste problematiche, non sono state evidenziate in quelle progresse, diciamo che gli è stata data una data genetica. Allora, questo invece è visto in senso opposto, in senso nord-sud, questo è il vecchio tracciato, antecedente al 2009, e questo è quello che ha dovuto, insomma, progettare e programmare la provincia facendo passare praticamente la strada nel versante in posto rispetto a questo displuvio. Questo è, qua c'è il vecchio tracciato, non so se si nota, si si vede, vecchio tracciato, questo è il nuovo tracciato. E qua possiamo vedere tutti i vari fenomeni esistenti sulla zona, soprattutto negli studi pregressi, ovviamente ci si è accentrati gli studi su questa parte qui. Andando a indagare nelle aree limitrofe, si sono trovati ulteriori fenomenologie assimilabili al sinkhole, fino ad arrivare, insomma, alla parte più 71, al cantiere San Luigi, e qua al cantiere Scalittas. Sempre per la strada provinciale 83 abbiamo, questo è il tracciato, attuale, e questi sono un allenamento sempre di sinkhole, di origine antropica, sempre legati a attività minerarie. A questo punto, diciamo, che nel 2010 si è un po' strutturata, insomma, anche l'amministrazione provinciale, si è posto il problema di fare uno studio, insomma, al di là di cercare di tamponare i problemi e vedere di fare uno studio in proprio, però ovviamente con supporto del servizio del Dipartimento Geologico dell'ARPA, dell'ARPA Sardegna e dell'Assessorato Regione dell'Industria. È stato costituito quindi un tavolo tecnico, tra i tre partner, nato per supportare le attività di pianificazione, progettazione e gestione del Paese.